La tavola Barton Split della collezione 2016 è una delle tavole più calde in questo segmento che sta crescendo ogni anno sempre. La peculiarità di questa tavola è che ti permette con un unico attrezzo di risalire e scendere. Qui la vediamo in fase completa dove è munita di attacco o di attacco. Nel momento in cui dobbiamo affrontare la fase di risalita, questo sistema brevettato insieme a Spark ci permette di togliere l'attacco, dividere la tavola per la fase di risalita, aprendola sia sopra che sotto e munirla chiaramente delle dovuti pelli che servono chiaramente per affrontare la risalita. In caso di situazioni più difficili con neve particolarmente ghiacciata la possibilità di mettere il rampant e l'attacco viene inserito e bloccato in questa maniera nella fase di risalita con la possibilità di avere poi due calza attacchi per le risalite più difficili.